Sono state trovate delle armi bianche, sono state trovate delle pistole replica, un'ampia pubblicistica d'area con libri sul suprematismo bianco, su Mussolini, su Hitler, foto sia del Führer che di Mussolini. Il progetto dell'organizzazione era quello di propagandare ideologie naziste contro la religione ebraica, negazionismo della Shoah, finalizzata sostanzialmente a porre in essere delle iniziative per il sovvertimento dell'ordine democratico. Alcuni di loro hanno sicuramente avuto contatti con soggetti del battaglione Azov. C'è un'ordinanza che colpisce un soggetto che sta in Ucraina. Si tratta della parte conclusiva di un'indagine iniziata nel dicembre del 2009 nei confronti di un'associazione con finalità di terrorismo, di razzismo contro la razza e la religione ebraica, che ha visto l'esecuzione di cinque ordinanze, quattro in carcere e una obbligo di presentazione della polizia giudiziaria, quest'ultima a Roma, tutte le altre in campania tra Avellino, Napoli e Caserta. Le persone indagate sono delle persone che conducevano una vita assolutamente normale. Hanno fondato questa associazione spirituale religiosa, denominata Ordine di Agal, per entrare nella quale era necessario fare un giuramento, un rito iniziatico. Si trattava di un'organizzazione organizzata in maniera verticistica. Più alto era il livello gerarchico, più è rimesso a conoscenza di quello che era il progetto dell'organizzazione. Propagandare essenzialmente ideologie naziste contro la religione ebraica, negazionismo della Shoah, finalizzata sostanzialmente a porre in essere, diciamo, delle iniziative per il sovvertimento dell'ordine democratico. Però si tratta soltanto della volontà dichiarata, perché non è mai stata seguita da alcuna condotta attiva che facesse pensare che realmente stavano organizzando un attentato o un'azione violenta. Sia nei confronti di civili, sia nei confronti di una caserma dei carabinieri. Sono state trovate delle armi bianche, sono state trovate delle pistole replica, un'ampia pubblicistica d'area con libri sul suprematismo bianco, su Mussolini, su Hitler, foto sia del Führer che di Mussolini. Dalle attività di intercettazione è emerso come alcuni membri dell'ordine di Agal si erano andati a fare dei corsi di addestramento al combattimento corpo a corpo, in particolar modo utilizzando il Krav Maga, un sistema di tecniche di combattimento, e anche addestramento all'uso delle armi, sia corte che lunghe. Erano molto preparati, soprattutto anche da un punto di vista fisico. È opportuno che vi dica anche che sono emersi una serie di contatti, proprio anche con i reparti più estremisti, nazisti, tipo Battaglione Azov, tipo Misantropic Division e tipo Centuria. C'è un'ordinanza che colpisce un soggetto che sta in Ucraina. In giornata abbiamo ancora in corso quasi una trentina di perquisizioni in tutta Italia e sicuramente dalle perquisizioni informatiche potrebbe uscire qualcosa di nuovo e di più interessante. Grazie a tutti.